Un altro piacevole ritorno nello studio dell'EMA Web TV è Ivano Valmori, bentornato, SEO Imageline. Buongiorno a tutti. Ti ritrovo proprio volentieri, anche perché stiamo affrontando un tema importante che sono i dati. Ce ne parla nel mondo, i dati, la valenza, l'importanza, il valore. I dati in agricoltura sono questi sconosciuti, in realtà i dati stanno diventando sempre più un pochino come il petrolio che sta facendo girare l'agricoltura. In particolare i dati saranno fondamentali dal 1 gennaio del 2025, quando entrando a far parte del fascicolo aziendale, permetteranno alle aziende di spiegare cosa fanno in campo. Quindi dal 1 gennaio del 2025, in pratica, AGEA richiede che le aziende agricole compilino una cosa che si chiama quaderno di campagna. Questo quaderno di campagna riporta tutte le attività che vengono svolte, perché non dimentichiamoci che l'azienda agricola permette di produrre gli alimenti e gli alimenti vanno nella bocca del consumatore. Quindi anche il più piccolo produttore deve garantire la sicurezza alimentare. Per garantire la sicurezza alimentare deve raccogliere i dati e dichiarare quello che ha fatto. Dichiarare quello che ha fatto che va da quando ha seminato a quando ha fatto le varie operazioni culturali, come ha fatto a fare la difesa delle culture, come ha fatto a fertilizzare quelle piante, quant'acqua ha utilizzato. Quindi di fatto ci sono tutta una serie di registri che devono essere realizzati dalle aziende agricole e questi registri tracimano di dati, dati che servono all'azienda agricola per dare maggiore valore al prodotto made in Italy e al contempo possono servire, se analizzati in un certo modo, per fornire anche ai costruttori di macchine agricole tutte quelle informazioni in tempo reale sul come sta cambiando l'agricoltura italiana. Ecco però tutti questi dati che noi da un lato richiediamo a chi produce e per i prodotti di importazione? Guarda, questo è un grossissimo problema, nel senso che noi come produttori agricoli italiani dobbiamo competere nella nostra testa con i prodotti che arrivano dall'estero e il ragionamento che viene fatto è che per riuscire a impormi sul consumatore finale devo ottenere dei prezzi più bassi. In realtà non è così. Questo è un po' il pensiero comune. Sì, sì, il pensiero comune è quello, ma anche da parte degli agricoltori. Gli agricoltori sono disposti a vendere anche per qualche centesimo in meno pur di vendere. In realtà noi viviamo in un paese in cui per normativa italiana siamo la nazione al mondo che ha la maggiore sicurezza alimentare perché è da 35 anni che facciamo difesa integrata delle culture. I nostri agricoltori sono già abituati, per esperienza, a utilizzare pochi input chimici, a ottimizzare il consumo di acqua. Il problema di base è che gli agricoltori lo sanno, ma non registrandolo non sono in grado di dichiararlo. Non possiamo dirlo al consumatore. Raccogliendo questi dati col quaderno di campagna tu adempi ad una normativa ma al contempo puoi comunicargli alla filiera. E se tu, oltre alla materia prima, riesci a consegnare anche i dati, dai valore aggiunto alla materia prima. In pratica, il grano. Se è un grano, è una commodity. Se è un grano con i dati che dimostrano che l'hai prodotto in Toscana ad una certa altezza, con una resa molto più bassa degli altri, con un maggior contenuto proteico, con delle caratteristiche particolari, a quel punto non è più una commodity, ma diventa una specialities. Per cui, è la stessa ragione per cui abbiamo della pasta che viene venduta a 30 centesimi al chilo e della pasta che viene venduta a 6 euro al chilo. Guardate che per fare la pasta ci vuole la stessa roba. Solo quella che viene venduta a 6 euro al chilo ha una storia dietro. E quindi, avendo una storia, il consumatore può pagarla di più. Per fare una storia ci vuole un racconto. Il racconto, come dice la parola racconto, dipende dai dati che gli hai fornito. Quindi, se vuoi raccontare bene il Made in Italy, devi avere i dati. E quindi questi dati possono essere utili per 10.000 cose. Ti sei occupato di un altro tema importante. Perché un agricoltore compra una certa macchina? Dico bene? O perché decidi di cambiare? Guarda, visto che non è il nostro lavoro abbiamo deciso di farlo assieme a Nomisma. E Nomisma è un, come dire, è ipertitolata per fare questo tipo di indagine. Noi abbiamo richiesto a Nomisma di somministrare alla nostra community, che oggi, come oggi, è composta da 299.900 e passa iscritti, ai soli agricoltori, una serie di questionari per capire cos'è che influenza l'acquisto di macchine agricole all'interno di ogni singola azienda agricola. Abbiamo sfatato un po' di miti. Perché, innanzitutto, nel giro di una quindicina di giorni, abbiamo raccolto 361 questionari completi. E per compilarli ci vuole un quarto d'ora di tempo. Non sono pochi. Sì, sì, sono tanti perché è significativo e erano densi di informazione. Innanzitutto noi pensiamo che l'azienda agricola sia spaventata dalla tecnologia. In realtà abbiamo visto che non è il problema tecnologico, quindi l'azienda agricola vorrebbe comprare tecnologia. Quello che è il problema di base è rappresentato dalla scarsa disponibilità finanziaria e al contempo della mancanza di finanziamenti specifici. Tra l'altro anche i vari annunci che vengono fatti sta per uscire una nuova opportunità finanziaria. Vedrete che il prossimo anno ci saranno delle agevolazioni e così via. è un'arma a doppio taglio perché di fatto blocca ancora di più gli acquisti. Nel senso che, restando in attesa che qualcosa migliori, ci sono degli agricoltori che stanno rimandando gli acquisti. Magari la prossima volta c'è di più e via dicendo. Esatto, sono le promesse politiche che molte volte vengono fatte. Quindi la prima cosa che è emersa è che proprio la tecnologia non spaventa l'agricoltore, ma è la questione della disponibilità finanziaria. Per essere chiari è il soldo che lo spaventa. Sì, esatto. L'altra questione è legata alla difficoltà di accesso al credito. Perché, e si torna sempre alla questione dei dati, l'agricoltore non è abituato a raccogliere i dati che servono alle banche in questo caso. Perché l'agricoltore italiano in particolare non è tenuto a fare bilancio. Perché in Italia paghiamo la tassazione agricola in base al reddito dominicale e al reddito agrario. Quindi quando le banche chiedono alle aziende agricole il bilancio, il bilancio non esiste. Quando gli chiedono gli approfondimenti, i dati per fare gli approfondimenti non ci sono. Quindi è tutto molto complicato nella relazione banca-azienda agricola. E anche in questo caso la disponibilità di dati può aiutare. Un altro brutto dato che è emerso da questa indagine è che il parco macchine delle aziende agricole molte volte è troppo vecchio. Abbiamo una percentuale spaventosa delle aziende agricole che ha macchine con più di 30 anni. Lo diciamo da molti anni. Questa è una cosa che evidenzia un pochino il dualismo dell'agricoltura. Ovvero da una parte c'è uno sforzo enorme per andare verso a tecnologie più green, a tecnologie meno impattanti e così via. Ma al contempo c'è una realtà che utilizza ancora macchine agricole di 30 anni. Ma c'è un paradosso anche abbastanza chiaro. Si parla tanto di biologico che diventa il futuro, tant'è che il Green Deal e il Farm to Forte ci dicono che dobbiamo portare al minimo il 25% della superficie agricola europea nel biologico. Ma per fare prodotto biologico puoi andare in campo con un trattore di 60 anni. E non è poi così biologico e così sostenibile perché di fatto puoi andarci con un prodotto a petrolio. Bene ma non benissimo. Io ti ringrazio moltissimo di essere tornato qui da noi. Avremo modo di sentirci ancora, approfondire. Dammi solo dei riferimenti per Imagine Line. Chi vuol trovare dati? Ah guarda, per trovare dati e informazioni si ricorda molto bene perché è agronotizie. Quindi su Google scrivi agronotizie e arrivi da noi. Per sapere come funziona il quaderno di campagna scrivi quaderno di campagna e arrivi da noi. Quindi ci trovi. Grazie Ivano. Grazie a te e buona permanenza qua in Eima.